buonasera a tutti piccolissimo ritardo sono le 17 01 e il 20 di luglio bentornati in una situazione diciamo così un pochino più comoda logisticamente io mi scuso moltissimo per la diretta di ieri perché alcuni di voi mi hanno detto che sentivano poco purtroppo ero alla camera dei deputati e quindi non potevo fare un grande rumore quindi ho cercato di fare una cosa diciamo così piuttosto intima ed è andata come è andata però siamo a posto oggi di nuovo in un orario più consueto quello delle 17 che tra l'altro vi segnalo da subito è anche l'orario della diretta di domani quindi ci vedremo domani sabato 21 luglio alle ore 17 nel frattempo come al solito vi ricordo di condividere pigiando su questa freccetta che vedete appunto sotto il mio faccione naturalmente in questo modo avremo più persone a seguire la diretta in diretta ma poi sapete che il video di questa nostra diciamo conversazione di questo nostro incontro resterà sul mio sito ivanscalfarotto.it sulla pagina facebook e naturalmente anche su youtube ma veniamo alle notizie del giorno io comincerei con un paio di cose di cui non si è parlato molto perché però che però secondo me danno un'indicazione anche un po del tempo che stiamo vivendo e partirei dalla vicenda dei vitalizi ai parlamentari sapete bene ne abbiamo già parlato qualche tempo fa qualche giorno fa quando la delibera era stata approvata chiariamo che i vitalizi sono stati già abrogati nel 2011 quindi in questo momento i parlamentari i nuovi parlamentari parlamentari eletti dopo quella data non hanno vitalizio hanno una pensione calcolata col sistema contributivo quindi diciamo così il privilegio era stato già eliminato ma quello che ha fatto la camera dei deputati è stato di andare a toccare con effetto retroattivo i vitalizi di quei parlamentari che li avevano presi già in precedenza una decisione come succede sempre quando si toccano dei diritti acquisiti che probabilmente solleverà delle contestazioni perché ci sono persone che comunque su quelle cifre avevano fatto affidamento in buona fede c'è da dire che il senato della repubblica non ha ancora preso una decisione identica in particolare la senatrice casellati la presidente del senato ha sollevato il problema che possano esserci dei profili di incostituzionalità e quindi ha chiesto un parere alle magistrature contabili parere che non è ancora arrivato quindi la decisione è stata presa alla camera ma non al senato tra l'altro la decisione che anche alla camera non è ancora efficace sarà efficace nei prossimi mesi ma è interessante dire due cose innanzitutto che la camera dei deputati ha chiesto all'avvocatura dello stato la garanzia che i componenti dell'ufficio di presidenza della camera che hanno preso questa decisione possano essere tutelati legalmente e cioè che se i ricorsi che saranno fatti dagli ex parlamentari dovessero andare in porto non si profili una responsabilità contabile per i parlamentari dell'ufficio di presidenza che hanno votato perché questa decisione non è passata dall'aula di Montecitorio l'ha presa solo l'ufficio di presidenza quindi per intenderci presidente vicepresidenti segretari d'aula questori quindi i nostri colleghi che fanno parte dell'ufficio di presidenza e quindi diciamo così evidentemente si è stato chiesto all'avvocatura dello stato di coprire legalmente queste persone e perché probabilmente si sa che la decisione non è una decisione solidissima dal punto di vista giuridico ma ancora più interessante è che il risparmio che sarà fatto su questi su queste cifre si parla di 43 milioni di euro non sarà distribuito in alcun modo quindi che cosa farà la camera dei deputati li metterà in una sorta di riserva del suo bilancio e li terrà lì quindi niente di quello che il presidente fico di maio avevano detto cioè con questi soldi sarebbero fatte delle cose sociali o si sarebbero diciamo devoluti questi 43 milioni a qualche causa benefica e nobile meritevole perché proprio la paura che questa decisione non non resista al vaglio della magistratura ha fatto sì che la decisione sia che i soldi sono stati congelati in un apposito conto e quindi stanno lì perché probabilmente si pensa che dovranno poi restituirli lo dico perché questa mi sembra una di quelle campagne molto simile alla campagna di salvini sulle migrazioni sulle migrazioni in questo periodo il governo non fa granché il governo riesce ad arrivare a grandi conclusioni sappiamo che appunto non si vedono grandi provvedimenti che l'aula lavora poco non c'è grande accordo all'interno del governo su molte cose ma di questo parlerò tra poco e quindi si prendono alcune campagne che servono in sostanza a tenere buona l'opinione pubblica e si dice abbiamo tagliato i vitalizi e tutti contenti e poi nel frattempo però le decisioni non si prendono peccato però che in questo tipo di poi di posizione con questo tipo di atteggiamento si facciano anche delle ingiustizie sostanziali ed era poi in realtà vi sto facendo tutto questo pippone per arrivare al vero punto e il vero punto è che ci sono persone come per esempio il mio amico franco grillini che aveva un vitalizio perché è stato parlamentare della repubblica ed è stato un parlamentare molto bravo molto capace che ha lavorato tantissimo per tantissime leggi e poi ha avuto un'attività politica estremamente intensa che da qualche tempo ha delle serie condizioni di salute e che appunto si vedrà togliere una parte del vitalizio si vedrà decurtare il vitalizio e questo potrebbe mettere a rischio le sue appunto le le cure di cui ha bisogno pier ferdinando casini che è bolognese come franco grillini ha chiesto al presidente della camera roberto fico di prevedere un'eccezione che in realtà pare sia prevista dalla delibera dell'ufficio di presidenza per gli ex parlamentari che abbiano gravi motivi di salute perché questi soldi non siano tolti a franco grillini e io devo dire che mi voglio aggiungere voglio aggiungere la mia voce alla voce di frank di ferdinando casini per chiedere appunto al presidente fico di non toccare franco grillini che è una persona poi ripeto lontanissima da piafferdinando casini molto più vicino a me naturalmente per le battaglie storiche che franco ha fatto però io penso che si tratti di un personaggio che lo merita come dirò la verità lo meritano anche molti altri politici perché poi alla fine quello che si fa è accreditare l'immagine di una classe politica fatta di lestofanti di malfattori di gente che si approfitta invece ci sono state molte persone franco grillini una di queste che hanno fatto onestamente il loro lavoro di uomini politici frequentando la camera non essendo assenti stando sui territori facendo grandi battaglie ideali io penso che senza franco grillini il nostro paese sarebbe molto più povero molto più triste e molto meno civile di quello che è e se abbiamo ottenuto dei risultati lo dobbiamo tantissimo le battaglie di civiltà che franco ha fatto negli anni nei decenni quando erano battaglie difficili complicate d'avanguardia da pioniere le ha fatte mettendoci la faccia le ha fatte come dire rischiando di suo e io penso che noi tutti italiani dobbiamo essere grati a lui e attraverso persone come lui anche segnalare quanto queste battaglie siano quelle del movimento 5 stelle siano battaglie di pura demagogia che mettono gli italiani contro contro la classe politica che talvolta sicuramente ha avuto delle grandi responsabilità delle grandi colpe ma anche espresso delle individualità come franco che meritano di essere non soltanto diciamo lasciate in pace in un certo senso ma anche ringraziate per quello che hanno fatto e quindi io sarò controcorrente però voglio dire oggi a me questa sembra una porcheria e quindi ringrazio per ferdinando casini ripeto che è molto lontano dalle battaglie di grillini per aver come dire segnalato questo caso e davvero voglio aggiungermi per chiedere a roberto fico di considerare questa cosa però di suo piano politico diciamo dimostra tutta la sua debolezza questa campagna questa è la prima cosa che volevo dire la seconda che riguarda sempre un po il tempo che viviamo riguarda il fatto che ieri sera siamo stati in aula fino a tardissimo io sono ho votato alle 20 in una votazione lunghissima che è cominciata alle 14 e 30 perché ieri si sono riuniti senato e camere deputati in seduta congiunta per eleggere otto membri non togati del consiglio superiore della magistratura e un giudice della corte costituzionale è stata una votazione molto lunga perché bisognava scrivere nove nomi su una scheda e quindi proprio la procedura è stata molto farraginosa alla fine devo segnalare che è stato eletto al consiglio superiore della magistratura come membro non togato david ermini per il partito democratico che una persona la quale voglio molto bene che stimo tantissimo col quale ho lavorato in commissione giustizia quando ne ho fatto parte all'inizio della scorsa legislatura una persona davvero valida capace competente ecco l'unica cosa che mi dispiace è che non sarà più alla camera con noi e quindi mi mancherà dal punto di vista umano però sono sicuro che farà un grande lavoro ma al di là della questione appunto dell'elezione di david al quale io faccio i miei complimenti devo dire che quando ho ricevuto l'sms dal gruppo che mi dava l'indicazione dei nomi sui quali tutti i gruppi avevano diciamo trovato sui quali avevano trovato un accordo mi è venuto un colpo perché gli otto nomi dei giudici da leggere quindi dei non togati da leggere il csm e il giudice della corte costituzionale quindi 9 persone erano tutte 9 uomini 100 per cento di candidature maschili e devo dire che ho immediatamente mandato un sms ad alcuni miei colleghi e colleghi dicendo ma come è possibile che l'intero parlamento deve individuare 9 persone ripeto poi del pd soltanto una quindi noi avevamo poche responsabilità comunque abbiamo responsabilità di uno su nove ma tutti gli altri otto nomi erano nomi come il nono di uomini e io penso che questa sia una grave struttura del nostro paese perché mi si dice sempre sì ma non bisogna fare la questione uomini donne le quote bisogna scegliere i più meritevoli ora è statisticamente provato che non sia possibile che su nove persone da scegliere i nove migliori siano tutti uomini io sono sicuro che noi ieri nello scegliere nove uomini abbiamo lasciato almeno quattro donne o cinque migliori fuori perché statisticamente il talento cade ugualmente tra uomini e donne quindi se abbiamo scelto nove uomini perché non abbiamo fatto la scelta giusta e abbiamo fatto secondo me come classe dirigente nel nostro complesso un disservizio abbiamo reso un disservizio al paese però voglio sottolineare che in questo disservizio di questo disservizio noi siamo responsabili come ho detto per un nono ma il movimento 5 stelle che si dà tante arie di rinnovamento e che dice che loro sono appunto il nuovo che avanza non ha aiutato perché ci sono tre giudici che appartengono al momento 5 stelle e sono tutti uomini quindi io vorrei vederlo un po' questo cambiamento del governo del cambiamento perché con tutta franchezza devo dire non lo vedo e non lo vedo neanche con tutte le vicende che adesso si stanno creando sulle nomine sapete in questo periodo si devono fare tantissime nomine c'è stata pare che finalmente si sia arrivati a un accordo su cassa depositi e prestiti di cui parlavamo ieri ma il movimento 5 stelle sta avendo un atteggiamento sulle nomine che non è affatto l'atteggiamento meritocratico di quelli che scelgono sulla base del curriculum stanno comportandosi come la peggior vecchia classe dirigente e qualche volta anche come abbiamo fatto noi del pd non ho difficoltà a dirlo scegliendo sulla base della fedeltà della lealtà al capo in questo caso di maio tra l'altro non avendo grandi classi dirigenti perché essendo un nuovo partito diciamo un movimento abbastanza recente non è che abbia questa grande tradizione dietro di sé e quindi secondo me imbarcando anche un sacco di opportunisti che oggi vedono il movimento 5 stelle come una sorta di grande ufficio di collocamento quindi io questo lo voglio lo voglio segnalare peraltro sapete che in questi giorni c'è stata questa polemica legata a questa signora questa ragazza assia montanino che è stata assunta da di maio come sua segretaria particolare è finito sulla prima pagina credo del giornale o di libero che a questa assia montanino una compaesana di di maio abbia preso 70 mila euro una ragazza di 26 anni senza nessuna particolare competenza senza nessun particolare curriculum ora vi dico come la penso si tratta di una nomina fiduciaria quindi per quanto mi riguarda il ministro si sceglie il segretario o la segretaria particolare che meglio ritiene sono affari suoi perché poi l'importante sarà lui responsabile diciamo dell'efficacia dell'efficienza del team che lo circonda se il suo team lavorerà male lui lavorerà male quindi sarà lui a dover come dire soffrire delle conseguenze delle scelte sbagliate che ha fatto o che farà il tema però è che questo tipo di approccio non è l'approccio che il movimento 5 stelle ha tenuto negli anni io immagino che cosa sarebbe successo se matteo renzi tanto per fare un nome a caso avesse scelto come segretario particolare una giovane ragazza di rignano sull'arno o di firenze del suo paese che cosa il movimento 5 stelle avrebbe scatenato e c'è sempre questa vicenda della doppia morale che francamente un pochino fastidiosa allora io dico di maio scelga chi vuole però poi mi faccia la cortesia di maio di accettare che gli altri scelgano chi vogliono per gli incarichi fiduciari insomma la vicenda deve essere questa non può essere che se un deputato del pd ha una piccola come dire magagna succede un pandemonio e poi di maio finisce nella fotografia col cassiere della mafia e va tutto bene insomma diciamo che o stabiliamo che la politica ha un suo margine di operatività e quindi in questi casi come dire si dice la fotografia facciamo le fotografie con tante persone vai a capire di chi si tratta perché delle volte effettivamente vieni bloccato ti chiedono possiamo fare una foto tu dici sì va bene però non è che quando di maio fa la foto col mafioso è un caso e quando la foto con il mafioso la fa qualcun altro perché è mafioso non è che quando uno sceglie una persona che conosce di cui ha fiducia magari senza un grande curriculum se di cinque stelle va bene se degli altri non va bene io penso che sia arrivato anche il momento di ritornare a una civiltà dei rapporti e quindi si scelga l'assia montanino va benissimo buon lavoro la signora la dottoressa montanino però per favore smettete di romperci i maroni con questo moralismo d'accatto che è servito soltanto a peggiorare la qualità dell'opinione diciamo del anche del vivere civile del nostro paese e ha reso la lotta politica una cosa vergognosa io tra l'altro voglio sottolinearvi che sotto diciamo nei commenti al mio discorso alla camera dell'altro ieri su mandela mi è stato mandato come al solito la solita squadraccia di picchiatori online della casa legge associati che uno al minuto stanno lì che mi scrivono delle cose orribili come è successo anche sull'intervento che avevo fatto quando il presidente conte era venuto a parlarci del consiglio europeo anche questo vorrei dire rilassiamoci ecco se fosse possibile evitare di avere minacce insulti chiaramente organizzati perché quando appunto ne arriva uno al minuto con una cadenza precisa dicendo sempre le stesse cose non è possibile che improvvisamente ci sia una passione per la mia pagina facebook questo evidentemente un attacco concertato quindi se davide casaleggio e i suoi soci si volessero occupare di cose diciamo così più importanti anche più redditizie io gliene sarei grato e comunque ecco vorrei dire che non mi spaventano non mi preoccupano se volete continuare a scrivere delle cose poi ogni tanto querelo naturalmente perché ogni tanto ci sta ma insomma andiamo avanti ecco mettiamola mettiamola così dicevo che su cassa depositi e prestiti pare che si sia trovato un accordo finalmente addirittura i giornali oggi aprivano con la minaccia di delle dimissioni del ministro tria e quindi con la possibilità che il ministro dell'economia saltasse dopo anche un mese e mezzo di governo sapete che tito boeri è venuto a fare la sua audizione davanti alle commissioni della camera e ha ribadito le sue convinzioni le convenzioni dell'inps circa il decreto di maio circa appunto gli effetti sulla occupazione anche lì c'è stato un attacco molto forte nei confronti di boeri che ripetiamo un tecnico e dice questa frase che secondo me andrebbe scolpita nella pietra cioè che i dati i dati non si fanno intimidire ed è vero sapete che probabilmente che il ministro dell'interno salvini ha deciso di querelare roberto saviano anche questa una dimostrazione come dire secondo me anche di debolezza no perché quando poi ci si fa forza tra l'altro su carta intestata del ministero dell'interno per dire querelare un intellettuale quando si è uomini di potere si dimostra forse anche una certa insicurezza rispetto ai propri ai propri argomenti io penso che a saviano salvini farebbe bene se sa come fare a rispondergli con le idee e non con le querele perché appunto saviano mi pare che non si possa non può essere equiparato a un qualsiasi picchiatore online a qualsiasi hater online stiamo vedendo delle cose che sono secondo me francamente molto fastidiose anche molto brutte e su questo concludo perché come forse avrete letto da qualche parte pare che nel nell'organizzazione della festa nazionale dell'unità si stia pensando a invitare luigi di maio appunto come ospite mi viene detto che questa è un po tradizione della festa dell'unità di invitare anche i leader di altri partiti io da questo punto di vista comprendo ecco vorrei soltanto che si trattasse davvero di un dibattito vero se di maio deve venire che siano invitate anche altre persone tra l'altro dubito che accetterà un dibattito perché per quanto mi riguarda io non riesco mai a fare dibattiti con nessuno di 5 stelle ogni volta che vado in televisione mi trovo sempre qualcuno magari della lega o di altri partiti ma poi la persona di 5 stelle arriva sempre dopo da sola quindi non capisco come mai di maio e i suoi che evitano i dibattiti in televisione vengono proprio a fargli la festa dell'unità non c'è un altro posto io dico viva i dibattiti facciamoli a sky ecco facciamoli alla 7 ma se proprio deve venire lì che venga a fare un dibattito ecco se avessi l'impressione che questo invito fosse più che per un dibattito per tentare un'apertura nei confronti del movimento 5 stelle un'apertura politica come sapete io continuo a esprimere la mia contrarietà io penso che il movimento 5 stelle non ci sia nessun discorso da fare il modo in cui governano lo dimostra il modo in cui gestiscono anche le relazioni appunto con gli oppositori politici le cose di cui abbiamo parlato un secondo fa lo dimostra e quindi io resto della posizione che così non che non debba essere quindi so che nel partito ci sono alcuni anche importanti colleghi anche molto esperti anche che hanno avuto ruoli prestigiosi che pensano che noi dobbiamo venire a patti con il movimento 5 stelle perché lì ci sono stati molti elettori che dal pd sono passati al movimento 5 stelle io come spesso dico con gli elettori si parla prima delle elezioni perché dopo le elezioni ci sono i partiti non ci sono gli elettori e chi ha deciso di votare 5 stelle oggi è un elettore di 5 stelle non è più un ex elettore del pd c'è quello che conta e che ha scelto il movimento 5 stelle io penso che la nostra responsabilità sia prima di tutto di rappresentare gli elettori del pd quelli che ancora hanno votato pd e che ci hanno chiesto di rappresentare alcune cose che sono il contrario del movimento 5 stelle l'europeismo il rispetto per le istituzioni la distinzione tra fascismo antifascismo ci sono cose molto serie non certamente non la decrescita felice ma uno sviluppo armonico e sostenibile una visione appunto moderna della società e non come dire rigida e antiquata come quella che viene fuori dal decreto di maio che cominceremo a discutere questa settimana la prossima settimana in aula insomma noi siamo due cose completamente diverse e quindi se di maio viene a fare il dibattito come tanti altri che sia un dibattito vero bene se dovesse essere una passerella io lo dico sinceramente farò meno di andarci io alla festa nazionale dell'unità se la passerella deve essere per il nostro principale competitor come si dice il nostro principale avversario allora ci va da lui io andrò in festa dell'unità meno importante di quella nazionale andrò nel territorio a incontrare i militanti che mi sembra una cosa più importante io mi fermo qui l'appuntamento come ho detto è per domani alle ore 17 vi ricordo sempre di pigiare su quella freccetta che vedete sotto il mio viso ribadisco che comunque il video di questa diretta resterà online sul mio sito ivanscalfarotto.it su youtube e naturalmente sulla pagina facebook ci vediamo domani alle 17 per il momento buon fine settimana ciao